Un buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati con Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa, siamo pronti per vedere i titoli dei principali quotidiani regionali e locali, ovviamente per vedere quali sono le notizie più importanti della nostra regione e non solo, che trovate sui fogli che trovate già in edicola. Ovviamente nella prima parte, spazio alle prime pagine, partiamo con i quotidiani di casa nostra, con le quattro edizioni del quotidiano Il Centro, ovviamente partiamo con l'edizione di Pescara, la cui apertura è questa. Esattori comunali, 40 assunzioni per scara alla società dei parcheggi, gestirà anche le imposte con nuovi posti di lavoro. In alto, la politica, il Consiglio regionale, la maggioranza regge sotto gli attacchi di Movimento 5 Stelle e Forza Italia. Altre notizie, scendiamo ovviamente in pagina. La fotonotizia non poteva che essere dedicata al protagonista abruzzese della serata di ieri di Champions, perché la Roma ha fatto davvero un capolavoro e il nostro Eusebio Di Francesco va in semifinale il Barcellona di Messi sconfitto 3 a 0 all'Olimpico, proprio dalla Roma del tecnico abruzzese. È davvero un'impresa clamorosa quella della Roma. Nelle cronache siamo a Pescara, a Strada Parco, il mercato sfrattato dai bus a metano. Ancora siamo a Rigopiano, la tragedia di Farindola è cominciata la bonifica dell'albergo. Sono 5.800 le tonnellate di macerie che la ditta Equalba dovrà smaltire in due discariche. Altre notizie, cronaca sparò e uccise un orso assolto, pettorano sul gizio, la rabbia di parco e animalisti, la LAV, dice faremo ricorso. E poi un'altra notizia un po' più leggera, particolare, Laura, una voce sola, la conquista della TV, la pescarese, nella trasmissione Voice of Italy. Cambiamo edizione, andiamo su quella aquilana, sempre edizione del centro. L'apertura è dedicata all'arrivo di 7.000 cartelle esattoriali. L'allarme del sindaco Biondi a Roma, dice il primo cittadino aquilano, è stata pianificata la morte della città. Vediamo che cosa cambia nella prima pagina rispetto alle altre edizioni. Ovviamente nelle cronache, siamo a Davizzano, elettrosmog, 37 antenne, sono state installate ma senza controlli. Nell'alto sangro, blitz dei NAS, l'alta quota, scarsa igiene, nei locali. E poi a Celano si cerca il Parà Reginaldo, scomparso 73 anni fa. Pensate. Cambiamo edizione, andiamo su quella teramana, dove a farla da padrone è la politica. Allora ci avviamo verso le elezioni comunali a Teramo e come vedete nel centro-destra, atteso oggi il Via Libera a Morra. Teramo verso il voto, resta lui il nome che mette d'accordo il centro-destra. Vedremo poi se sarà così, così come faremo il punto anche sulla situazione nelle altre liste. Altre notizie nelle cronache. Aspirante primo cittadino, Alba rispunta all'ex sindaco Antonietta Casciotti. Ad Atri, ospedale, tecnica innovativa, salva paziente, non operabile. E a Giulianova invece ordine di demolizione per nove abusi edilizi. Cambiamo adesso, chiudiamo le quattro elezioni con quella di Chieti e provincia. Conti in rosso, recuperati due milioni. Chieti, il buco dell'amministrazione, si ridimensiona il 15 aprile. e si paga la Tari. Nelle cronache, sempre a Chieti, auto contro il bus in centro. Dieci persone finiscono in ospedale. A San Salvo, Denso, l'azienda conferma 30 contratti fino ad agosto. E a Chieti, festa della polizia. Palumbo, droga ai giovani, sempre più controlli, ovviamente, che sono necessari in questi casi. Cambiamo quotidiano adesso. Andiamo sulle colonne del messaggero. Vediamo l'apertura, che è dedicata alla politica regionale, perché la Giunta regge per un voto il neoassessore D'Ignazio, leggiamo, è appena sufficiente per tenere in piedi la maggioranza di governo. Restano fuori Gerosolimo e Di Matteo, ma l'obiettivo è convincere il secondo, ovvero Di Matteo, a rientrare. Altra notizia di politica, ma ci spostiamo a Montesilvano, dove il bilancio comunale è ad alto rischio. Sotto la testata, altre notizie che riguardano la nostra regione, Ortona, strisce blu, licenziato ex capo dei vigili per gli ammanchi a Corropoli. Siamo in Val Vibrata, investì e uccise un bambino in bici, risarcimento da 465 mila euro. Per lo sport, Pescara sull'otto volante, che decide la salvezza. inizia il giro di partita al Cardiopalma e appunto sono 8, ecco il perché del titolo, che dovrebbe portare Biancazzurri alla salvezza. Scendiamo lungo la pagina, purtroppo ci tocca parlare di nuovo di sisma, 3.3 all'Aquila, torna la paura, ma nessun danno. La scossa alle 6.50 di ieri mattina ad Ocre, poco dopo quella più violenta di Muccia. Altra notizia, sparò all'orso per sbaglio, come vedete anche qui la notizia è stato assolto, l'uomo avrebbe esploso un colpo accidentalmente. E poi l'evento, la polizia fa festa, la criminalità evidentemente no, perché calano i reati, specie quelli in flagranza, almeno questo è il bilancio della polizia che si è tenuta ieri, e poi vedremo anche in questo caso il servizio. Le prime pagine dei quotidiani locali, che chiudiamo andando in provincia di Teramo, con il quotidiano La Città, questa è l'apertura, la metà dei reati sulla costa. Il questore garantisce maggiore presenza di polizia sulla riviera adriatica. La fotonotizia, senza argini, il salinello mette a rischio terreni e costruzioni. In basso, per la cronaca, il cadavere sul tronto ha un nome, il mistero di Santo Stefano, risolto proprio dalla sorella della vittima. Per la politica, prima di salire in alto, siamo nell'ambito del centrodestra, aspettando Morra parte 1, sai che c'è, mi è venuta voglia di fare il sindaco, e poi leggeremo anche le parole di Giandonato Morra, e poi aspettando Morra 2, Abruzzo Civico lancia l'idea di ricandidare Pomante. In alto, a Roseto degli Abruzzi, niente risposte sui problemi del traffico, mentre a Giulianova il centrodestra è in fuga dall'idea di Costantini. In basso, per il pugilato, a Roseto, la leggenda della boxe, Nino Benvenuti, per la sfida europea. Queste sono le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Adesso vediamo, invece, un po' di notizie di carattere nazionale, e non solo, partendo dal Corriere della Sera, la cui apertura è dedicata alle scuse del fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, che si scusa in Senato e ammette gravi errori sui dati, lo sapete, lo scandalo di Cambridge Analytica, l'apertura a nuove regole, balzo del titolo in borsa dopo il crollo degli scorsi giorni, l'audizione negli Stati Uniti, il fondatore di Facebook appare pallido, teso, e beve continuamente acqua. La foto, notizia dedicata alla Roma, rimonta da leggenda, la Roma elimina Messi, Barcellona ha battuto 3-0, e nella foto l'esultanza del terzo gol, quello che è valso alla qualificazione, di Costas Manolas. Inchiesta a Milano, arrestati primari di Pini e Galeazzi, lo aiuto per il mutuo IPM tangenti ai medici, che scuote la nuova inchiesta, che scuote la sanità lombarda. In alto, ovviamente, siamo ancora nel bel mezzo della costruzione probabile di un nuovo governo, consultazioni, l'ipotesi di un esploratore. In aula, un asse tra il Movimento 5 Stelle e il centro-destra. E poi, vediamo una notizia, riportata anche dal Corriere della Sera, che purtroppo non ci fa particolarmente piacere, scossa nelle marche, terremoto, ricostruite solo 18 case su 100.000. E poi, quest'altra notizia per il controllo della velocità, brevetto copiato, autostrade, cambierà i tutor, questo è l'effetto della sentenza della Cassazione. Cambiamo quotidiano, andiamo su Repubblica, l'apertura è dedicata a questioni internazionali, Siria, il fronte dei raid, alleanza contro Assad, Macron vuole coinvolgere l'Europa, Mosca potremmo reagire per la politica. Nel Partito Democratico cresce l'ala governista, Franceschini vuole impedire, non permettere il patto tra Lega e 5 Stelle. Anche qui l'immagine dedicata all'audizione di Mark Zuckerberg, a testa bassa davanti ai senatori, ammette, è solo colpa mia la fuga dei dati, il mancato controllo sui dati. Calcio in basso, Roma un'impresa storica fuori messi dalla Champions 3-0 al Barcellona, e adesso per i giallorossi c'è la semifinale europea. La stampa, governo, pressing di Mattarella, il presidente mette alle strette Di Maio e Salvini, pronto a dare il pre-incarico. Domani i partiti al Quirinale, ma nessuno vuole fare la prima mossa. Franceschini a Renzi dice, basta stare alla finestra. Anche qui, la questione Facebook, Zuckerberg, saremo i poliziotti del web, l'audizione del patron di Facebook al congresso USA dopo gli scandali. Ho sbagliato, e il titolo vola. Il fatto quotidiano, il Colle prepara un esploratore, nel PD volano stracci e coltelli. Secondo round, senza intese, fra domani e venerdì, ci sarà un mandato provvisorio, lunedì, ovviamente, se non si riuscirà a trovare la quadra per formare il nuovo governo. In alto, Renzi sentito in procura su Lotti e Soffiate de Consip. Poi, altro che tagli, la Casellati si regala un super staff, la buffata del Presidente del Senato, neopresidente del Senato. Almeno questo riporta il fatto quotidiano. Il manifesto, solito titolo ad effetto, tra capi e colle, Mattarella alle prese con il rebus del governo, convoca il secondo giro di consultazioni. Domani l'incontro con i leader dei partiti, pressing per uscire dall'unpass. Centrodestra unito al Colle, Di Maio chiude la parata con il timore del preincarico e il PD rimane immobile. In alto, sotto la testata, Trump pronto ad attaccare la Siria, Francia, Gran Bretagna e Saud con gli Stati Uniti. Assad si ha inchiesta sul gas. Il messaggero, il mea culpa di Mr. Facebook Zuckerberg, si scusa davanti al Senato Stati Uniti. Gravi errori, diventeremo come poliziotti. Lo scandalo, dati rubati, il grande affare dei big data. Così vendono la nostra privacy. E poi, ovviamente, la fotonotizia è dedicata al Roma, scritta tre volte come i gol realizzati dalla squadra giallorossa. Barcellona schiantato e semifinale. Caroselli in città. Sogno Champions, Supergeco in gol anche. De Rossi e Manolas per la politica. Nuove consultazioni, ma l'incarico è lontano. Strappo nel PD sul Movimento 5 Stelle. Domani partiti al Colle. Manca ancora l'intesa sul governo. Di Maio, Cassa Depositi e Prestiti. Banca pubblica. Il tempo apre con quella che una volta era una remuntada, ma da ieri sera si diventerà una romantada. E non sarà l'unico giornale ad avere questa apertura, con questo neologismo nato praticamente nella tarda serata di ieri. La Roma omiglia il Barcellona e rimonta il capo dell'andata. 3-0 e passa la paura di Messi. Giallo-Rossi tra le prime quattro squadre d'Europa. E qui c'è la foto, proprio nel momento del sorteggio, di un Totti sorridente che tira fuori il bussolotto del Barcellona. Forse già immaginava il passaggio del turno. Chissà, l'ex capitano della Roma di spalla. Effetto Lega. Il Sud chiede l'autonomia. Via al comitato promotore. Libero, se anche i medici rubano luminari dell'ortopedia accusati di lucrare sulle attrezzature ospedaliere, di intescare denaro e regali. La notizia fa scandalo, ma la cupidigia di qualche specialista non può travolgere l'immagine di una delle poche sanità che funziona, anche se insomma arrestati quattro primari a Milano. È una notizia abbastanza dirompente. La scomparsa di Matteo Renzi intanto, cambiamo colore qui, la scomparsa di Matteo Renzi per libero accantonato come un reietto. L'ex premier paga la troppa supponenza, ma i suoi colleghi del PD che l'hanno fatto fuori ora pagano la loro stupidità. E poi in basso gli ozzi dei parlamentari nel paese dei fanulloni. I deputati e senatori condannati a grattarsi il ventre in attesa che si sblocchi la situazione del governo. Andiamo avanti. L'avvenire, l'inaccettabile sfida. Sicilia e i clan volevano uccidere un cronista scomodo. In Calabria, autobomba per affermare il controllo. Un arresto nel Vibonese dopo l'attentato. Le autorità, la risposta sarà forte. A Siracusa, nel mirino Paolo Borrometi, già da anni sottoscorta la fotonotizia. Il centro Italia trema ancora. Paura da battere, scossa all'alba. Danni nel maceratese. Peraltro anche questa notte intorno alle 2 c'è stata una scossa di magnitudo minore rispetto a quella della mattinata di ieri. Per la politica, Mattarella spinge i partiti intesa o alt agli incontri. Domani nuove consultazioni di fronte ai veti. Potrebbe non esserci un terzo giro proprio di consultazioni da parte del capo dello Stato. Il secolo XIX, l'accelerata del Quirinale. Mattarella pronto a mettere alla prova Di Maio e Salvini con un preincarico. Nel PD Franceschini sfida Renzi. Basta stare a guardare. E c'è il nodo della legge elettorale. Il mattino Zuckerberg. Cambiare internet. Il capo fondatore di Facebook, ripete il mia colpa, annuncia una svolta storica seduta del guru dei social network di fronte al Senato americano. Diventeremo poliziotti del sistema. Per la politica, il dialogo lega Movimento 5 Stelle, agita i democratici. Franceschini insiste. Basta attesa. L'analisi, il voto in Friuli e l'assemblea PD, le due variabili in concorrenza. E poi una notizia che riguarda il calcio. Sarri lascerà la sua villa. Sale il pressing del Chelsea. De Laurentiis pronto a discutere. Il rinnovo del tecnico del Napoli. È molto in bilico. Chiudiamo con il sole 24 ore. Contratti. Il welfare conquista anche le piccole e medie imprese. Il 63,5 delle aziende ha aumentato la produttività. Vediamo altre notizie. Come vedete, il panorama. Governo possibile un preincarico dopo le seconde consultazioni. Data Gate, il Senato usa, minaccia la stretta sui social. E poi scendiamo in pagina sulla questione Telecom. Scontro legale. Consiglio team contro i sindaci. Pronto il ricorso d'urgenza. Nessun blizzi in assemblea. Bernabè rispetterà il risponso del Tribunale. Più consensi a Elliot. Vediamo le prime pagine dei quotidiani sportivi. partendo da Gazzetta dello Sport che definisce i giocatori della Roma imperiali. Una grande Roma ribalta il Barcellona. Storica remuntata giallorossa 3-0 e semifinale. Giacomo e De Rossi trascinano i compagni all'epica impresa. Contromessi completata da Manolas. Avanti anche Salah, ex romanista, con il Liverpool. Fuori Guardiola con il Manchester City. E nel commento di Luigi Garlando, la rovesciata più bella che si apre il pezzo con CR7. Chi? Questa sì che è una rovesciata da non dimenticare più. E ovviamente adesso c'è l'invito alla Juventus a provarci anche lei contro il Real Madrid. Stasera ci sarà il ritorno anche per i bianconeri allo stadio Santiago Bernabeu contro i Blancos di Zinedine Zidane. Altre notizie in basso che riguardano invece le altre squadre. Per il Milan, Milan Zapata Musacchio, Muro contro il Napoli. Bonucci stop, Romagnoli ai box. Inter, Pinamonti e compagni valgono un tesoretto. Plus Valenze per il bilancio. Per la moto, Marchezz e Valentino Rossi duellanti a confronto. Espeleta li ha convocati. Il Corriere dello Sport, Roma nel mito. Questo è il titolo con l'esultanza di tutti i giocatori della Roma. Champions, leggendaria, remontata 3-0 al Barça di sua maestà Leo Messi. I giallorossi irrompono in semifinale e non accadeva dall'83-84. Giacomo e Di Francesco, sì, arriveremo a Kiev, Roma che mancava dalle prime quattro d'Europa davvero da tantissimi anni, quando poi perse purtroppo proprio in casa la finale contro il Liverpool che sarà in semifinale anch'esso. In basso, Juve ora provaci tu. I bianconeri al Bernabeu partono dallo 0-3 dell'andata. Buffon dice che si deve tentare l'impossibile e parla anche di addio. Ma il commento di Alessandro Vocalelli, tornando sulla Roma, olimpico pazzesco, hanno vinto in 60.000. Tutto sport, estasi, Roma, Juve, visto che si può, notte da sogno per i giallorossi che ribaltano il Barcellona. In alto, l'ultimo invincibile, è morto Sauro Tomà, era l'ultimo sopravvissuto del grande Torino. E a proposito di Torino, la grande sfida di Mazzarri. Toro, chiudiamo il campionato senza ulteriori sconfitte. Altre questioni che riguardano il calcio, la rivoluzione. L'idea della FIFA, abolire i prestiti per pulire i bilanci. Inter, Tohir, dismette ora il DC United. Poi Nerazzurri, Milan, Guaio Romagnoli, a rischio anche la finale di Coppa. Per il ciclismo, Aru ha 27 anni. Ho tutto per iniziare a vincere. E per la Ferrari, un nuovo fondo per tentare la fuga. Domenica si torna già in pista con il Gran Premio di Cina. Ma la vittoria della Roma trova spazio anche, ovviamente, vista la portata della rimonta, su quotidiani stranieri. Allora ne abbiamo presi due, perché questo è l'equipe, siamo in Francia. E come vedete, anche l'equipe titola Romantada. Con la foto di Florenzi che abbraccia De Rossi, battuti 4-1 all'andata. I romanisti riescono, nell'incredibile impresa, di ribaltare il Barcellona di Leomessi. Leomessi, peraltro, altre notizie con Tuchel che sembra vicino alla panchina del Paris Saint-Germain. Però, insomma, questa è una bella foto sul quotidiano principale di sport francese. E ovviamente qui, invece, siamo su Sport in Catalogna, come la si vede dalla parte degli sconfitti. La partita di ieri sera, e gli spagnoli, i catalani, dicono che è un fracasso. Senza scusanti, davvero una debacle. E non è solo il Barcellona a piangere, ma anche un ex Barcellona come Pep Guardiola, che vedete con le mani sul volto in basso, perché il suo City esce contro il Liverpool. Noi ci fermiamo per questa prima parte. Adesso le previsioni del metodo, la pubblicità, e poi torniamo per entrare all'interno dei quotidiani di Casa Nostra tra poco. Seconda parte di Mattino 6, siamo pronti per entrare all'interno dei quotidiani di Casa Nostra. Vedete alle mie spalle la pagina Abruzzo del centro, verso le elezioni regionali. Ovviamente parliamo di politica, allora andiamo a leggere. Tre assenze in Consiglio, ma la maggioranza regge D'Alfonso sotto attacco dei forzisti, Febbo e Sospiri. E i 5 Stelle, Pettinale e Marcozzi. Il neodeputato D'Alessano si dimette, poi saluta quasi commosso i colleghi. E ovviamente le questioni che riguardano la politica regionale le troviamo anche sul messaggero. Facendo un salto vediamo Assetti in Regione. Di Matteo in Giunta, la maggioranza tenta il recupero. Al momento è fuori con Gerosolimo, ultimo tentativo. La nomina di D'Ignazio tiene in piedi l'esecutivo per un solo voto. E allora andiamo a leggere solo l'apertura dell'articolo. 110 giorni dopo l'ultima seduta. Il primo Consiglio regionale post-elezioni ieri ha preso atto. Tra mille tensioni e fibrillazioni del nuovo parziale assetto di Giunta. Dentro Giorgio Di Neazio con delega al turismo. Fuori al momento sia Andrea Gerosolimo che Donato Di Matteo. Ma l'interlocuzione con questi ultimi non è ancora un affare chiuso. Vedremo poi gli sviluppi. Intanto ad Isola del Gran Sasso Lavoro. 6.000 in marcia, marcia nazionale per la sicurezza sul lavoro. Andiamo avanti, rimanendo sul messaggero. Entriamo all'interno delle città. Siamo a Pescara. Allora la questione di apertura, la notizia di apertura riguarda gli impianti sportivi. Perché sono bandi in arrivo. Il Comune punta ad abbattere i costi. Affidando la gestione completa alle società. A giugno la gara per campi e palazzetti. Le spese per il riscaldamento passano a carico dei gestori. Qui saranno lasciati però gli incassi. A parte un canone. L'assessore Diodati dice Escludo proroghe per il Palarigopiano. Venerdì incontro con gli annascoli a Palazzo di Città. E nella foto vedete proprio il Palarigopiano in una partita di calcio a 5. Di spalla, zona franco-urbana, parte la carica delle imprese. In basso, nuovo look per l'estate sul lungomare Matteotti. Completata la prima parte dell'intervento. Dal 23 prossimo sarà sistemato l'asfalto stradale. Come vedete, Blasiori e Delvecchio immortalati al taglio del Nassor sul lungomare Matteotti. Ancora a Pescara, nella festa della polizia. Più rapine, più arresti, polizia, il bilancio è ok. Il questore Francesco Guglielmo Misiti ha celebrato il 166esimo anniversario del Corpo. Droghe e reati contro il patrimonio rappresentano le prime emergenze. Queste sono le foto. Il capo della mobile promosso, Pier Francesco Murriana, Addio tra ricordi e commozione. Lascerà dopo sette anni e mezzo il capo della squadra mobile Murriana e lascerà Pescara per ricoprire ruoli più prestigiosi. Allora, proprio sulla festa della polizia, andiamo a vedere il servizio di Paolo Renzetti. Signor Questore, festa della polizia. Oggi a Città Sant'Angelo, la polizia di Stato sempre al fianco dei cittadini? Ovviamente, deve essere sempre al fianco dei cittadini. L'ho voluto fortemente perché avendo solo il presidio sul Pescara Centro è giusto che anche la provincia venga affiancata dall'attività della polizia di Stato. Avete consegnato degli encomi a degli agenti che si sono distinti in particolari servizi, soprattutto in occasione di incendi di palazzi e anche nell'incendio di un camion all'interno di una galleria dell'autostrada. Agenti che hanno rischiato la vita. Ovviamente, questa è una prerogativa del controllo del territorio, sempre funzionale, sempre attento a qualsiasi esigenza. Fortunatamente è sempre pronta a intervenire e a scongiolare il peggio. L'occasione della festa della polizia, signor Questore, è anche l'occasione per fare un po' il punto della situazione a Pescara e provincia sul fronte dell'ordine pubblico che 2017 è stato e che 2018 nei primi mesi abbiamo avuto. 2017 è molto impegnativo, anche alla luce delle nuove direttive che sono arrivate al Dipartimento in materia di grandi eventi. Devo dire che abbiamo avuto anche la solidarietà e la vicinanza degli amministratori comunali che hanno capito le esigenze che bisognava affrontare e che di conseguenza si sono adeguate a quelle che erano le richieste, a volte anche rigide, ma nell'interesse del cittadino. Pescara e Abruzzo non sono un'isola felice, però sono zone in cui c'è ancora una buona qualità della vita grazie anche all'ottimo lavoro delle forze dell'ordine. Sì, c'è una bella qualità della vita. Devo dire che obiettivamente a Pescara si vive bene. C'è, come dicevo, un aspetto fisiologico di reati contro il patrimonio e per lo spaccio, ma sicuramente non suscettibile di allarme sociale. Oggi il Comune di Città Sant'Angelo ha avuto l'onore di ospitare la festa della Polizia di Stato, una grande occasione di vicinanza a chi lavora ogni giorno per la sicurezza dei cittadini. È stato, come hai detto benissimo tu, un grandissimo onore che il signor Questore ha voluto conferire a Città Sant'Angelo. Noi siamo onorati di questa scelta e siamo anche felici che le condizioni meteo hanno baciato questa giornata memorabile. Approfitto della vostra presenza anche per dare un'anticipazione. Avevamo già in mente di farlo, ma questa è stata l'occasione che ha fatto convincere ulteriormente la Commissione del San Michele d'Oro. Infatti a settembre, in occasione delle feste patronali, sarà conferito il San Michele d'Oro, che è la più alta onorificenza di Città Sant'Angelo proprio al corpo della Polizia. Nei prossimi giorni informeremo il signor Questore e chiedo scusa se abbiamo anticipato la notizia per televisione, ma per noi questo è veramente una cosa meravigliosa. Andiamo a vedere come il centro tratta la festa della Polizia. Eccola qua, meno reati, ma i cittadini si armano di più. Calano furti e rapine, aumentano le pistole detenute in casa. Il Questore Misiti a Pescara, il sistema di sicurezza funziona. Queste anche qui le foto e il fuori programma. Un saluto speciale a Muriana e al dirigente della scuola Volpe. Continuiamo la lettura, rimanendo sul quotidiano Il Centro, per tornare proprio a Pescara Città. Il Comune diventa esattore, nuova società per le tasse. In arrivo 40 posti di lavoro. L'amministrazione vuole gestire da sola l'attività di riscossione e accertamento. Pescara Parcheggi verrà trasformata in Pescara Entrate. E il piano è già pronto. L'ufficio Tributi utilizzerà un software per scovare gli eventuali evasori. Andiamo avanti. Strada Parco, il progetto bus a metano sì della regione, ma il mercato dovrà traslocare. Piace la proposta della tua. L'area tornerà ciclopedonale solamente nei weekend. L'assessore Diodati, nessun mezzo passerà in quel punto, prima che siano state abbattute tutte le barriere architettoniche. Vediamo in basso il riassunto attraverso delle foto, l'asfalto rifatto all'altezza di Via Vittorio Veneto, il tratto che attende i lavori. E adesso è un'impresa camminare sui dossi che ci sono. Andiamo avanti. Riviera, un mese per renderla più bella. Pronto il nuovo marciapiede su Lungomare Matteotti, il 23 aprile. I lavori per rifare l'asfalto dalla Rotonda alla Madonnina. Seminario in Sala Consigliare del Comune, zona franco-urbana. Incontro con i funzionari del Ministero in basso. Altre due notizie. Periferie, Via Libera ai 18 milioni. Il bando per la riqualificazione delle zone degradate. E poi per la Croce Rossa c'è l'ex scuola polemica sullo sfratto dell'associazione. Teodoro, dimenticato il patto con la provincia per trasferire la sede. Naia di Renzo, patteggia tre anni. Bancarotta, l'ex amministratore della progetto Sporti Lacrime. Non ho mai preso soldi prosciolto calore di spalla in auto da Pescara a Spalato. Ma solo dal prossimo autunno ripristinati i collegamenti con la Croazia. Degrado sulla riviera. Blitz dei vigili urbani in tre palazzine. Rifugio di disperati. Denunciati dieci stranieri scovati nell'ex sede dell'Enaip. Materassi, sopra le scrivanie, tra migliaia di documenti. Queste le foto. Anche qui facciamo il punto con il servizio della nostra redazione. Una situazione davvero drammatica quella che abbiamo visto all'interno dell'ex Enaip di Pescara. Dove questa mattina c'è stato questo blitz della polizia municipale. Avete trovato delle persone che vivevano maggiore palestini davvero in condizioni precarie, igienico-sanitarie terribili. In una situazione di estremo degrado di queste persone che vivono ai margini di quello che è possibile immaginare per i limiti minimi di vivibilità di un individuo. Sono soggetti, tra virgolette, fantasma che spesso e volentieri non hanno neanche un'identità. Per questo motivo il Giona sta operando negli ultimi tempi un'attività di monitoraggio sul territorio per determinare le identità o comunque ricondurre nell'alveo di una cornice di conoscibilità i soggetti, il più possibile i soggetti che gravitano sul nostro territorio. Nel caso specifico stamattina sono stati identificati otto personaggi con un valido documento di identità, di nazionalità nigeriana e rumena. Altri due soggetti invece sono stati portati presso il gabinetto scientifico della questura di Pescara per procedere alla identificazione secondo la prassi di rito. Cosa ne sarà di questa struttura che si trova proprio di fronte il lungomare di Pescara? Per quanto riguarda la struttura è impredicata un'azione di risanamento che chiaramente avrà un respiro abbastanza ampio perché come potete immaginare è una struttura abbastanza grande, ha bisogno di un intervento radicale che va ben al di là della semplice bonifica. Ma l'ente e gli uffici preposti stanno già operando in tal senso. È ovvio che nell'emore di questa procedura di risanamento purtroppo diventa preda di soggetti che hanno bisogno di un ricovero di fortuna. Andiamo a Montesilvano, adesso leggiamo sul messaggero perché è un bilancio ad alto rischio per il sindaco Maragno, 15 consiglieri pronti a bocciare il documento, un fronte trasversale che trova appoggi anche nelle fila della maggioranza. Oggi consiglio comunale al buio con il rischio dell'arrivo del commissario, le fratture in giunta iniziate dall'urbanistica. Altre notizie a Francavilla, a tassa di soggiorno un coro di no, ma rimaniamo a Montesilvano, blu serena, blitz di maresca, riacquistati villaggi e hotel. Rimaniamo a Montesilvano, ma passando sul quotidiano il centro, Corso Strasburgo, basta attese, aprite i cantieri, coro unanime di residenti e cittadini, dopo la presentazione delle osservazioni, dopo anni di aspettative deluse, il comune deve puntare, dicono, su questa zona che vedete in foto. Sempre a Montesilvano, traffico, verrà riaperta anche via Benedetto Croce, mentre a Città Sant'Angelo, premio di Rotary e Finanza, al video del liceo spaventa. In basso, torniamo a Montesilvano, bivacchi, intervento dei carabinieri, blitz del reparto biodiversità alla Pineta e sulla riviera, rimossi 4 metri cubi di rifiuti. Andiamo avanti, impianto all'asta, piscina, siamo a Francavilla, chiusa in estate, lavori di messa a norma. Un mese e mezzo dalla scadenza della Convenzione per la gestione, il sindaco si prepara a indire il nuovo bando e a riaffidare l'impianto fino a giugno. A San Giovanni Teatino la sosta selvaggia finisce su Facebook, sui social le foto segnalazioni dei cittadini indignati. Rigopiano, iniziata la bonifica dell'hotel, si riapre il dolore, Gianluca Tanda, i lavori tanto attesi riportano i ricordi del gennaio 2017. La ditta Ecoalba rimuoverà 6.600 tonnellate di macerie e rifiuti. Andiamo a Chieti, conti in rosso, il comune recupera 2 milioni, si ridimensiona il buco dell'amministrazione che passa da 12,7 a 11 milioni. L'ente si prepara a incassare la prima rata dell'Atari in scadenza tra 4 giorni. Altre notizie che riguardano sempre Chieti, ad esempio, 4 sindacati contro la maxifusione SRL con Teatri Servizi e Chieti Solidale. Per le tasse l'ASL cerca una società privata per risparmiare. Via all'appalto ed è polemica sul servizio di ristorazione in ospedale, 19 dipendenti cambiano ditta. Per la cronaca, sempre a Chieti, auto contro bus, 10 feriti in centro, paura in via Nicola da Guardia Grele. Anzi, la passeggera cade, si rompe il femore e adesso è in ospedale. A Lanciano, assunzioni in comune, in Lizza già 150 candidati per un posto da messo. A Guardia Grele, inciampa sul tombino e resta ferita. Damiano protesta per le condizioni delle strade. Dice, ci sono troppi pericoli. Siamo ad Ortona, Ruspe in spiaggia. Prime prove per l'estate, i balneatori già lavorano in attesa dei bagnanti, ma restano cumuli di rifiuti. Svolta per il turismo, sarà la prima stagione con la pista ciclabile accanto al mare. E vedete nelle foto i cumuli di rifiuti. Andiamo avanti. Ad Atri, albergo diffuso e multinegozi per rilanciare il centro di Atri. L'argomento principe dei programmi elettorali riguarda il rilancio del cuore della città. Il centro di destra punta sul turismo. PD e alleati scelgono le imprese. E il Movimento 5 Stelle, invece, la defiscalizzazione. Di spalla, Pineto, nuova sede per il mercato. Gli operatori sono contrari. A Silvi sul lungomare, come vedete, le aiuole poco curate e anche abbastanza sporche. Non proprio il massimo. Siamo a Teramo per la politica verso il voto in comune. Centrodestra oggi da Roma. Può arrivare l'ok a Morra. È slittato l'incontro tra i dirigenti nazionali dei partiti per risolvere il caso Teramo. Attesa da Fratelli d'Italia per l'investitura ufficiale del suo candidato, che metterebbe d'accordo tutti. E poi vedremo anche sugli altri quotidiani come viene affrontato l'argomento. Mentre il Partito Democratico punta a mettere in campo due liste. Oltre a quella con il simbolo ce ne sarà una civica per la candidatura. Torna in ballo di Sabatino. In basso, Alba rispunta. L'ex sindaco, Casciotti, proposta dall'asse PD Caserta Zenobi, può mettere d'accordo i moderati. Ma lei prende tempo. A Giulianova, invece, ordinata la demolizione di nove abusi edilizi. Provvedimenti per due chalet sul lungomare Zara e un chiosco all'annunziata. Presi di mira anche gli ampliamenti nell'abitazione di Simone Santoleri. Di Spalla Università parte il progetto che aiuta gli atleti studenti. All'Aquila. In arrivo 7.000 cartelle delle entrate. Una città in ginocchio. Sono notifiche relative al 2009-2010. Prima del sisma, per 87 milioni biondi. Il primo cittadino a Roma, dice, hanno pianificato la morte dell'Aquila. A centro pagina, Avezzano e Preturo. Avanti insieme. Polo, protezione civile. Pietrucci del PD invita ad Alfonso a riflettere e dare spazio anche allo scalo aquilano. In basso, esposito, lascia l'ufficio della ricostruzione. Il manager in scadenza di contratto si dimette prima l'ipotesi di un incarico all'azienda Dompe. Per la cronaca, siamo a Sulmona. Sparò e uccise un orso a fucilate. Assolto. Accolte le tesi della difesa del PM. Il pensionato di Pettorano non voleva ammazzarlo. Il colpo è partito accidentalmente. Di spalla, il caso, gli allevatori protestano fuori dal tribunale. In basso, il parco sconcertati dall'esito del processo. Le reazioni, il movimento animalista, un epilogo scandaloso. E la LAV annuncia, faremo ricorso contro questa sentenza, ovviamente. Scarsa igiene nei locali. Siamo a Sulmona. Nassi in alta quota. Ispezione nell'alto sangro e nell'alto piano delle rocche. Attività abusive, distillate e alimenti, senza alcuna tracciabilità. A centropagina, Salmonella nel fiume, chieste nuove analisi. Raiano, il sindaco ai vertici del consorzio di Bonifica, sollecitano l'intervento degli esperti ASL. In basso, Parà, disperso 73 anni fa. La famiglia lo rivuole in patria. Celano cerca il soldato a Reginaldo, scomparso, come detto, 73 anni fa, in Tunisia. Qui apriamo la pagina dello sport. Allora, torniamo sul messaggero per leggere le altre notizie dalle altre province. All'Aquila, il terremoto sveglia la città. Ovviamente la priorità è rendere sicure. Le scuole, due scosse a Ocre e nelle Marche, fanno ripiombare, come è ovviamente chiaro, la città nella paura. L'evento, la festa della polizia. I risultati sono incoraggianti. In basso, la viabilità sassa, strada nuova di Zecca, ma chiusa. Lavori finiti alcuni mesi. In settimana una riunione per aprire l'arteria. È il caso, ex poliziotto condannato a tre anni per stalking. Anche qui la questione tassi all'Aquila. Altra ammazzata, 7.000 cartelle. Richieste di pagamento relative al 2009-2010. Durissima la presa di posizione di Biondi, come abbiamo letto prima. Masciocco, la polemica è lo staff del sindaco. Più persone di Cialente. Qui siamo ad Avezzano. Chiesta la decadenza della Cosimati. Dieci consiglieri in una nota presentata ieri in segreteria. Chiedono la rinuncia della Presidente del Consiglio Comunale. Si contesta con durezza che è apertamente schierata con la maggioranza e non garantisce l'obiettività dei lavori. Altre notizie. Secondo circolo didattico a Sulmona, si dimette il Presidente dell'Istituto. E dall'Aquila, invece, un no all'interporto marsicano. A Chieti, terrorista dell'ETA, arrestato, premiati poliziotti teatini. Il pericoloso latitante aveva avuto contatti nel Chietino, dove viveva pure la fidanzata. Festa dell'Ateneo. Ecco i riconoscimenti per le operazioni di polizia più importanti. Di spalla, per non dimenticare, evento all'Università con l'ambasciatore Sachs. In basso, Cittadella della Cultura, ecco il bando per la nuova biblioteca. Andiamo avanti a vasto, strada groviera strigliata di D'Alfonso. Il Governatore sollecita Pupillo, il Presidente della provincia di Chieti. In vista dell'estate, progetti ancora al palo e appalte in ritardo. L'ipotesi di un rinvio al 2019 spaventa i sindaci del Vastese alle prese con Buc e Frane. Chiesto un tavolo di confronto. A Lanciano, città sotto un'altra luce, grazie ai LED, già sostituita metà delle lampade della pubblica illuminazione. Nuovi fari anche sui monumenti. In basso, a Ortona, la sentenza, l'ammanco dai parcometri. Giusto licenziare l'ex comandante della Polizia Municipale, Alessandro Poeta. Siamo a Teramo. Parcheggi, nuove strisce blu e boom di stalli a pagamento. Cambiano le mappe delle aree di sosta e saranno introdotti 31 parcometri. L'ipotesi è quella di ricavare 816 mila euro l'anno e altri 26 mila saranno incassati dalle multe. Per la cronaca spaccia 1.600 dosi di eroina condannato a 5 anni e 8 mesi. In basso, strade groviera, i sindaci, sciopero delle tasse. E poi per la cronaca, travolse e uccise un bimbo condannata, Lorenzo Di Gimignani, 11 anni, era in sella alla sua bici, morì all'ospedale di Teramo dopo due giorni di agonia. A distanza di 10 anni, la donna che con l'auto investì il piccolo dovrà risarcire i familiari con una provvisionale di 500 mila euro. In basso, a Garrufo di Santomero, trovato morto sul pavimento del bagno, ennesima tragedia della solitudine, l'anziano uomo era solo in casa a dare l'allarme, è stato un parente. Anche qui siamo arrivati allo sport e allora, prima di arrivarci, facciamo il punto sulla situazione verso le elezioni a Teramo con la città. Ora mi è venuta voglia di fare il sindaco, le parole di Gian Donato Morra, che si lascia convincere dal sostegno che sente attorno in Val Vibrata. Intanto critica la Lega. È il caso Teramo, incardinato sui tavoli romani, attesa una decisione definitiva su Morra, ma non è affatto detto che il centrodestra correrà unito verso il ballottaggio. La Lega potrebbe essere l'ago della bilancia nella formazione della nuova coalizione. Invece, Abruzzo Civico propone di ricandidare Pomante. L'idea lanciata dal coordinatore Siriano Cordone al tavolo del centrodestra. L'alternativa sarebbe la corsa in solitaria. Sempre a Teramo, tre nuovi giudici in arrivo al Palazzo di Giustizia. Il CSM ha bandito il concorso per implementare l'organico delle toghe, l'annuncio del foro Teramano. Andiamo in provincia perché Montorio piange la morte del suo fotografo. Mario Goderecci, uno dei simboli della cittadina, si è spento nella sua abitazione a 67 anni. Continuiamo con altre notizie. Di cronaca siamo in vibrata. Il cadavere del Tronto ora ha un nome. Risolto il mistero iniziato a Santo Stefano. Il 62enne Roberto Brutti a centropagina. Il Salinello mette a rischio terreni e costruzioni. E poi sempre in vibrata Martinsicuro scaglioni di reddito per l'addizionale IRPEF comunale. Prima di passare allo sport, allora io direi di fare il punto sulle elezioni al comune di Teramo. Soprattutto con uno sguardo a quelle che saranno la formazione delle liste e la scelta dei candidati. Nel servizio di Tania Bonnici Castelli. Vediamo. Se per il centro-destra Teramano è aria di spaccature tra il nome di Giandonato Morra e quello di Lucio del Paggio, nel centro-sinistra si navega in acque talmente burrascose da non permettere né ai civici né al Partito Democratico di definire nemmeno una strategia politica. Fino a questa notte si è discusso in casa DEM se indire le primarie o puntare direttamente sul nome del civico Giovanni Cavallari, ex capogruppo PD al comune di Teramo. Perché Cavallari e non Gian Guido Dalberto? Anche lui a capo di un movimento civico e anche lui ex capogruppo comunale del Partito Democratico? Nella discussione notturna sarebbe emerso che Dalberto avrebbe mostrato meno aperture verso il PD, verso la possibilità di partecipare alle primarie e soprattutto avrebbe imbarcato nella sua alleanza civica personaggi alquanto discutibili. Il Partito Democratico di Teramo a questo punto potrebbe anche avere uno scatto di orgoglio e presentarsi alle primarie con un proprio candidato di peso e non di bandiera. L'attenzione dunque si concentra nuovamente sull'attuale presidente della provincia Renzo di Sabatino, un politico autorevole e stimato, un uomo di partito, fedele e al quale si riconosce in dubbio capacità amministrative. Di Sabatino aveva già rifiutato di candidarsi a sindaco con la speranza che tra Cavallari e Dalberto si arrivasse ad una sintesi, sintesi che sarebbe stata benedetta anche dal Partito Democratico. Ma il rodeo tra i due continua e a questo punto potrebbe accadere che il presidente della provincia ci ripensi e per orgoglio e amore nei confronti del suo partito accetti di candidarsi e confrontarsi alle primarie. I sacrifici, si sa, spesso sono necessari, sono dei semi dai quali possono fiorire nuovi alberi. Apremo adesso la pagina dello sport, ripartiamo dal centro e partiamo ovviamente dal Pescara, dalle parole di José Macin che dice Tiki-taka nel sangue per salvare il Pescara. Ho iniziato con il futsal, dice il giocatore di scuola Roma che è arrivato a gennaio dal Brescia. Il Barcellona mi ha forgiato e ora voglio la Serie A. Leggiamo alcune parole. Il Barça mi ha insegnato tutto, è un club unico che ti forma con una precisa filosofia. Il mio idolo però con il Barcellona c'entra poco perché è Cristiano Ronaldo, con cui si è fatto anche una foto, come vedete a fianco, senza calcio. Avrei fatto il cantante rap, ma ovviamente l'attenzione sarà soprattutto adesso su Pescara Bari, Campagnaro l'arma in più, dubbio Brugman, il difensore recupera e si candida per un posto da titolare. Nuovo stop invece per il centrocampista uruguaiano. Andiamo sul messaggero anche qui per vedere le questioni che riguardano il Pescara. Ecco, otto finali per la salvezza. Il tour dei forze del Pescara comincia sabato contro il Bari allo Stadio Adriatico, quattro gare in casa, altrettante esterne per i ragazzi di Pilon, tutte le insidie. Intanto a centropagina, striscia la notizia, punta l'indice sulle plusvalenze, con un servizio andato in onda lunedì sera. In basso per il Futsal, Acqua e Sapone, K.O., addio alle Final Four contro la Luparense. Cambiamo pagina, andiamo in Serie C, in casa Teramo, obiettivo quattro punti nelle prossime trasferte. Evitare di arrivare all'ultima giornata con l'acqua alla gora e con il pericolo che la Reggiana si giochi proprio il campionato al Bonolis contro il Padova in occasione della trasferta di San Benedetto in programma domenica pomeriggio alle 16.30. Il club bianco-rosso organizza un bus per i tifosi per il basket. Sharks, ipotesi, incrociano i play-out con Napoli. Ma adesso c'è il Treviso, dopo la penalizzazione di Reggio Calabria, la società ovviamente fa i calcoli del caso. In basso per la D, l'Aquila-San Marino col dubbio Boldrini in golf, peraltro fantastico domenica contro il Materica. Pineto invece continua l'assalto ai play-off, probabilmente la squadra più in forma del girone F del momento. Torniamo sul centro, anche qui scendiamo in Serie C, Teramo a caccia della salvezza, Sales a San Benedetto, vogliamo fare un regalo ai tifosi. Difensore non dobbiamo avere paura dei rosso-blu, lunedì si discuterà il deferimento di San Domenico in Serie D. A Francavilla torneo finito per Fofanà, mentre l'Avastese, proprio in vista del derby contro il Villa, abbassa i prezzi. Andiamo avanti, il Futsal, Acqua e Sapone al tappeto sfuma la Coppa di Visione, la Luparenza vince 2-1 in casa dei Nerazzurri nei quarti di finale. Sabato niente derby con il Pescara, la squadra di Perezzi in campo, il 25 a Latina. E poi, per questioni che riguardano il ciclismo, in Belgio Nippo, Vini, Fantini, Europa Vini, oggi sarà protagonista alla Freccia del Brabante, che apre le classiche delle Ardenne. In basso ciclismo paralimpico, ecco, Maniga di Luca Pizzi, storia di disabilità e ambizione, a due ruote per la nuova squadra, presentata a San Vito Chietino. Con questa notizia si chiude anche questa edizione di Mattino 6, che tornerà domani, ovviamente, a farvi compagnia alle ore 8. Io vi ricordo, alle ore 14, invece, la prima edizione del nostro telegiornale, con le notizie più importanti, appunto, dall'Abruzzo. È tutto, buona giornata. Grazie a tutti.